Piscina di Muggiò arriva un altro rinvio per i lavori e dunque per la riapertura dell'impianto natatorio chiuso dall'estate del 2019. Lo ha annunciato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Al centro della questione il nuovo dirigente delle opere pubbliche, Luca Noseda, che entrerà in servizio non prima del prossimo primo luglio. Questa è la normativa nazionale che prevede quattro mesi di preavviso, ha spiegato il sindaco. Noseda arriva dal comune di Cantù e ha vinto la procedura di mobilità aperta a Como. Ha la possibilità di portare una recente esperienza in un progetto complesso quale il palazzetto di Cantù, in una città che ha voglia di investire tantissimo nello sport. Abbiamo la questione dello stadio e tutta l'area di Muggiò da sistemare e mi auguro che Noseda possa portare benefici anche a Como. La legge ha proseguito il primo cittadino, dice che tra il periodo di selezione e il preavviso al comune di provenienza debbano passare quattro mesi. Nel frattempo abbiamo un dirigente ad Interim che sta lavorando e stiamo portando avanti tanti cantieri. Sugli impianti sportivi dunque si dovrà attendere ancora e se ne riparlerà verosimilmente il prossimo autunno. Intanto però, ha concluso Rapinese, la progettualità sta andando avanti.